Come se fa, come se fa, la campanella te ha confessato, ma sti preghiera non servono a niente, si farò i loro stai ancora a spagliare. Ma non potete immaginare che sofferenza è stata, un'idea immatrimonio rosa con una carcerata, a essa che ha vintanno fa come era prima amora, con cora a piezza c'ha già un'arabba a benedizione. E quando tocchi l'occhio e mi racconi un braccio rotto, ma senza cattiveria è stato mio marito, l'ha già stregnuto forte e forse non avrei dovuto, forse ero troppo vicino. Come se fa, come se fa, la campanella te ha confessato, ma sti preghiera sono giudice e ti ho capito, la cattiveria è stata, un'arabba a benedizione. Grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, il miracolo di una band giovane che ha saputo precocemente conquistare... Aspetta, proprio sulla maschera non si è tenente perché sta passando l'aereo, un momento, facciamole le loro conoscenze, non vanno a fare sentire. Aspetta, facciamole la conoscenze, veramente, è sempre fatta apposta. L'entusiasmo del cielo anche per la maschera. Qualche vecchia band l'ha mandata, capito? Invidiosa, vai. Allora, il miracolo di una band giovane che ha saputo precocemente conquistare pubblico e critica. Musica, testi e l'energia positiva dei loro affollati concerti le hanno resi, sin dalla pubblicazione del loro primo CD, tra le promesse più luminoso del futuro del Napolitan Power. Dario, consegna il premio un altro luminoso futuro del Napolitan Power che già illumina le piazze e i luoghi dove si tiene la musica dal vivo. Dario Sansone dei Foglia! Eppure questa è una bellissima scena. Cioè, Dario, ma grazie per aver accettato di... apriamo il microfono anche a Dario. Buonasera a tutti! Allora, facete un prezzo, consegna il suo premio. Come è vero? No, consegna il suo premio. Grazie, grazie. Dici grazie, mi è piaciuto. È gentile, grazie. Dammi qua, dammi qua. Alla fine se ne avevi viena una doccia. No, me lo piglio perché dovete fare una cosa al volo insieme. Ah bene. Vi facciamo suonare insieme, facciamo questa cosa inedita, poi hai la maschera? Bene vado, eh? Facete una cosa a prezzo. No, dovete farlo. Perché Dario diceva, ma mica mi fai fare una cosa dal vivo, a me l'avvisa. Mi ha detto, non lo so, dipende dai tempi. Però era una trappola perché la foto col premio, giustamente diceva, facciamo trappola. Fai la foto col premio? Ci voglio stare proprio io perché poi... Perché poi siamo stati... Oh, ricordatelo sempre che la radiazza di Radio Marte è stata la prima radio che ha suonato il vostro primo pezzo. E chi si scuola? Vai Dario, dei fogli e la maschera, inedito per San Gennaro. Vabbè, io sento la chitarra, aiutami tu. 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 Vabbè, io sento la chitarra. Vabbè, io sento la chitarra, aiutami tu. Vabbè, io sento la chitarra, aiutami tu. Vabbè, io sento la chitarra. Vabbè, io sento la chitarra, aiutami tu. 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 Vabbè, io sento la chitarra, aiutami tu.